salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft dell'appoggettoso 3 bene cosa andiamo a fare oggi? stiamo andando a fare un po' di semi come ho fatti questi facili non mi sto neanche a far vedere li ho fatti con camera e con personal abbiamo visto come si faceva nei scorsi episodi facendolo esplodere in un blocchettino sopra dinamite viene fuori questo con una perdita del 20% e poi per il resto ho fatto il downstone che si tiene con la smelter che abbiamo già visto come diamo un po così con il gold e il copper quindi molto facile l'ice abbiamo il gracchal che ce lo fa l'osmio l'abbiamo fatto da qualche volta lo slime è stato abbastanza facile a parte che avevamo gli slime ha preso di chunk lionesi neutro li ho portati a livello 2 mettendoli così e quindi li ho portati a tier 2 e poi li ho trasformati appunto in slime tier 2 così e dopo ho fatto la cosa il seme molto semplicemente il fluix beh il fluix l'avevamo quindi non c'era niente da dire abbiamo già visto il tier 4 come farlo e poi cos'altro c'è l'ormio e basta adesso volevo andare a fare con voi il seme del se lo trovo di questa come si fa a fare questo seme è un po complesso però si fa praticamente dobbiamo prendere dobbiamo trasformare dobbiamo avere questa polverina magica che si ottiene polverizzando del silver polverizzando del gold in un semplice sag mill o un crusher e della destillata e resto come si ottiene la destillata e resto si va nella smelter è uno dei tanti modi faccio come faccio io si va nella nella smelter si mette dentro gli spezzi mi sembra mi sembra che un 100 bucket 100 millibucket se li mangi vabbè facciamo così ci mettiamo un secchio vuoto lo ovviamente ho fatto la mia cacata perché dovevo selezionare cosa cosa volevo se non faccio una cacata video non sono contento selezioniamo questo ci vuole pazienza come lo sapete e vabbè l'abbiamo riempito con che ci volete fa sono fatto così adesso lo andiamo a rimettermi preoccupate facciamo così lo mettiamo qua dentro non me lo fa rimettere accidenti a me e vabbè se non faccio una cacata video non sono io e quindi insomma si da questo lo utilizziamo non vi preoccupate e vabbè pazienza mettiamolo appunto qua e lo tiriamo giù e lui andrà a riempire il secchio quindi i secchi si riempiono così molto facilmente senza nessun problema vediamo se mi hanno dato mille ok ok mi hanno dato il secchio e questa è la distillata il resto adesso una volta fatto questo si mette nella crafting table e insieme a il vari cosi che non ho cresciato non ho polverizzato perché sono pirla sono sempre così io non c'è da fare tac e tac oddio dove cazzo è andato e tac perfetto deve versi dietro non c'è problema eccolo qua adesso dicevo possiamo finalmente cia boia a fare la polverina magica eccola qua dove cazzarola è ecco qui e adesso grazie a questo noi cosa facciamo nell'industrial smelter si può cuocere normalmente mi tocca fare l'industrial smelter perché sennò ci vuole l'acquo furnace va bene non c'è problema andiamo a fare l'industrial smelter che non l'abbiamo mai fatta così almeno facciamo qualcosa di nuovo ma che emozione e allora vediamo come si fa questo è l'industrial smelter e le solite cose dai una cosa così una cosa cosa sono i soliti macchinari non sono neanche i soliti crafti non sono neanche a soffermarmi più di tanto è roba normale quando è roba complessa vi fermo e ve la faccio vedere non vi preoccupate che non vi faccio perdere niente vi spiego tutto quanto passo passo come mio solito fare benissimo abbiamo l'industrial smelter che cos'è è un quello che dice lui è una una smelteria induzione una cosa niente di più niente di meno dove andiamo a metterla ovviamente ho finito gli spazi sono sempre il solito ma per adesso la mettiamo qua poi troverò un loco non vi preoccupate è brutto da vedere ma dovete avere pazienza io sono fatto così e quindi qua diciamo se dobbiamo fare appunto lo smelteri o la la cosa normale il flux mettiamo questo qui normalo rimettiamo un po di sabbia solarium l'ho fatto cosa devo dire la sabbia aspettate fatemi mettere a posto un po di cose se no le trovo in giro e dopo è un casino la sabbia ce l'abbiamo ma ce l'abbiamo un po' doppertutto la sabbia chi è che non ha la sabbia allora vediamo un po la sabbia eccola qua con quattro siamo a posto andiamo nell'industrial smelter e gli diciamo dei ceoparadro e lui se la fa con questo più questo e lui piano piano incomincerà a farla bellissimo io intanto ne approfitterei per prendere i vari potenziamenti che abbiamo già qua uno due tre il quarto lo farò e gli augmente li farò intanto facciamo questi ed è già qualcosa allora vediamo un po uno due e tre quindi mettiamo il primo il secondo e il terzo dopo il quarto lo farò e gli augmente li metterò benissimo li ha fatti adesso una volta fatto questo andiamo a fare il nostro seme qua eccoci qua e siamo oddio spaccato tutto eccomi qua scusate lo stavamo dicionando che dobbiamo fare appunto questo come si fa questo si fa facile con il tira quattro che lo andiamo a portare con i nostri semi adesso ci arrivo a farli porca miseria mi mancano i semi allora li avevo fatti i semi l'altra volta con voi qua ma adesso ne farei dopo degli altri perché adesso mi lascio un po qua così per sicurezza che se ne finisco faccio una figura di merda eh ne ho usati tanti eh alla fine vedete ne ho fatti proprio tanti tanti allora facciamo i semi eh mentre sarà l'ultima pagina infatti immaginavo eccoci qua sette almeno siamo a posto li portiamo già a livello due tutti quanti perché non si sa mai e incominciamo a portare ai tre quattro eh vediamo un pochino qui ho fatto ah non vi ho detto quante volte ho fatto mi sono scordi ho fatto un'esorbità eh ho messo sei sette stack di guider scherzo da fare proprio sono andato a fare una passeggiata ho trovato la la cesta da tre slot piena e ho trovato un sacco di roba quindi è stato molto utile allora vediamo un po questo e e vediamo eh ho fatto l'inferium vabbè mi serviva eh per carità questo mi serviva adesso abbiamo fatto il cir 5 scusate mi sono confuso dovevo fare l'inferium devo fare porca vacca ho fatto una caccata come il solito eh sono fatto così insomma lo sapete e ci volete fare allora questo qui mi serve porca miseria eh vabbè ma è andata mi tenete per come sono eccoci qua questo qua questo qua questo qua questo qua e questo qua ok adesso possiamo fare questo vai e ce l'abbiamo fatta ma adesso da video quest da fare il flux e il 5 perché qui ah non ho fatto il tier 4 eh mi sembra ovvio no eh inferium seed tier 2 tier 3 che quello la che ho fatto e 4 che è questo ok adesso dobbiamo anche il 4 e il 5 perfetto quindi dopo io porto direttamente il 5 di saluti dai allora vediamo un po e 5 perfetto togliamo il 4 eh inferium seed 4 inferium seed questi qua che non servono cazzo e siamo a posto slime ok dopo mi arrangio io a fare il resto ok abbiamo fatto un sacco di cose anche questa volta allora vediamo un po eh glosto no flux ed electrum dovrebbe essere questo così lo togliamo ho tolto tanta tanta roba allora questi qua ah questi qua li faccio io con casa sono sempre le stesse cose come vedete è anche il man infused facciamo eh così siamo a posto allora questi qua uno due tre e eh invar 4 ecco fino a questi quattro li faccio io off camera ci vediamo tra poco beh non si può certo dire che non abbia il pollice verde guardate di quanta roba adesso e non è ancora finita devo farne ancora altri certo è ancora da finire però abbiamo fatto una vagonata di farm adesso contento adesso le farò anche ora delle altre adesso piano piano volevo fare quella di pig e quella di ship ma adesso insieme a voi volevo fare una cosa volevo fare la farm di hand del drago finalmente perché possiamo fare delle cose molto interessanti allora mettiamo a posto un po di cosine questo lo devo ancora mettere a posto adesso farò anche questo qui qua qua il paperone e siamo a posto questo devo fare assolutamente sostituire il portale 10 10 10 così dopo faremo una cosa da panico va bene intanto portiamo a livello massimo questo eh che eh se no non possiamo farlo quindi portiamo u e vediamo come fare così no con questo non possiamo ancora con questa qua eh ok facciamo così ne facciamo un po' così almeno siamo a posto per un po' e siamo tranquilli quindi andiamo a selezionare questo dobbiamo prendere le scaglie di drago che allora un uovo di drago non mi serve ecco le scaglie di drago e dovremmo essere a posto per il resto vediamo un po' se è vero andiamo a vedere cosa ci vuole eh ci vuole ovviamente il seed più avanzato che quello più avanzato e quello più avanzato e quello più avanzato e quello ancora più così pocati cazzo di volte lo faccio scusate mi sono fatto prendere il panico allora mi serve questo che vabbè lo facciamo in un secondo eccoci qua vai così vai così questo l'avevamo fatto vero sì e poi vai con quello dopo che è così ola e ce l'avevamo fatta questa è una cosa allora questo lo ti anvia dovrebbe segnarmela si vede che l'avevo già fatto sì è per fare ragione anche lui quello dovrebbe stare allora cosa facciamo con questo infatti abbiamo fatto questo le scaglie di drago poi faremo anche l'awakening non vi preoccupate è questo qua e quindi andiamo a farlo e vai e qua è fatto perfetto questo dovrebbe segnarmelo non me lo segna perché probabilmente devo fare prima il crux crux come si fa con le scaglie di drago un blocco di diamante che abbiamo diamanti qua e siamo a posto quindi addirittura col tir precedente beh meglio ancora no ok avevi fatto il crux mi segnite esatto mi segni quello adesso voglio insegnarmi anche l'altro in teoria vediamo se è vero esatto ok mi hai segnato tutto quanto perché questo come quello del 3d star ha bisogno di un crux sotto per crescere se no non crescerebbe e quindi insomma sì quindi cosa facciamo facciamo lo stesso set appino che abbiamo fatto di là qua vediamo un po qua come messo non ci vado da tanto tempo ragazzi è proprio perfetto questo set appino vediamo un po quanto ne abbiamo 134 mila in salita mi sembra 50 mila questa casse che non sono poco adatta come è efficiente sono contento contento e questo qua è da svuotare assolutamente allora cosa faccio adesso dovrò sostituire questo e ovviamente dovrò spostare questo assolutamente quindi adesso faccio un piccolo taglio che tolgo tutta se no facciamo così mettiamo provo a mettere un altro di questi vediamo se ce l'ho qua posso fare in diretta no vado a prenderli e così lo metto dietro così lui fa anche quelli questi qua non c'è problema è l'unica cosa che viene in mente oppure addirittura ne metto uno qua staccato e tanti saluti beh proviamo a fare così ci vediamo dopo allora mettiamo il nostro crux qua sotto se c'è ah perché c'è il cavo qui non posso farlo interessante allora se c'è il cavo posso tranquilla mont farlo passare un attimo più giù non c'è problema facciamo una piccola modifica eccoci qua perfetto adesso questo lo togliamo perfetto e adesso possiamo fare il tutto allora calma e sangue freddo ci mettiamo questo tanto doveva funzionare lo stesso perfetto ci mettiamo questo ottimo una zappata che ovviamente non ho la zappa perché io non mi porto mai detto la roba o porca vacca e va bene ma prendere un attico la zappa qua ovviamente devo portarlo 10 10 10 adesso non l'ho portato purtroppo chi dovinia però almeno devo vedere se funziona allora aspettate un attimo per portarlo 10 10 10 semplicemente per il momento lo pianto qua pianto un attimo lo moltiplico ok vediamo se arriva a farlo ah deve esserci per forza il coso sotto ok va bene pensavo lo moltiplicasse lo stile in teoria sì qualcosa l'ha fatto ma con questo non lo fa un problema questo sì non può essere analizzato la pianta non può essere non può crescere qui un bel problema sì peccato diamo un po se riesco a farlo così poi farlo crescere che in teoria dovrebbe farlo 1 1 1 esatto quindi io se facessi così no non si moltiplica vabbè sì perché effettivamente deve crescere però non ho riscaldi e niente mi tocca far così piano piano dopo mi arrangio io adesso devo solo farlo funzionare dopo facendo le prove cioè nel senso facendo i frutti io vado a potenziare per i fatti miei quindi lo mettiamo così lo mettiamo così ok è cresciuto subito è cresciuto subito e però devo mettere il plant gather se no col cazzo che va ok perfetto ci mettiamo il nostro che perfetto adesso lì comincerà è esatto a farlo allora adesso mi serve soltanto da collegare lo sludge che è il collegamento da sotto per dirgli day c'è opera draw e siamo a posto potrei collegare direttamente da qui prendere il tutto esatto posso collegarlo ok adesso che posso fare faccio tutto in diretta così almeno vedete e siamo tutti a cavallo eccoci qua adesso prendiamo la nostra brancia diciamo day c'è opera draw e collegati e siamo a posto lo vedete se io ci clicco ci provo così è che ok si è collegata adesso vado un attimo giù di sotto di dovrebbe essere già nel strato però meglio guardarci esatto non è nel strato è che è ok adesso è nel strato quindi il lo sledge è al sicuro nel senso verrà espulso perfetto adesso che abbiamo fatto fatto tutto quanto con voi è così almeno se c'è qualcosa fugate ogni ogni dubbio allora mettiamo le fasate così almeno siamo posto tac e tac perfetto io devo solo collegare dopo il condo adesso lo collegherò non vi preoccupate direttamente a una cassa ma lo voglio fare qui e con voi così almeno vi faccio vedere tutti i passaggi poi una volta che ho preso le scale di drago le vado a rifare ma è succhiato tutto le vado a fare così faccio 10 10 10 e almeno è più efficiente perché sennò così lo è poco devo ammetterlo che lo è veramente poco allora mi serve questo noi avevamo già un barrel uno yabba con l'infinity però io mi ricordo più dove cazzo è diamo un po scusate barrel c'è solo questo dove cavolo l'avrò messo il barrel avevo fatto una marea con tutti con l'infinity però evidentemente l'ho perso vediamo se lo trovo qua vediamo un po ok non c'è problema non andiamo a fare non è tutta questa gravità per farlo è facile basta far così e poi basta fare dunque una cassa come è possibile che non abbia una roba del genere ma porca vacca no ce li ho dai questi è possibile che non li abbia sono qua allora scusate mi sono fatto prendere la panica dicevo di avere la roba invece non avevo un cazzo ok così va bene e adesso facciamo il barrel eccolo qua e adesso facciamo l'infinity con una lende star lende star ce le ho dai non mi dire che non le ho lende star tronzo si non ho questo che è di qua e quindi siamo a posto va bene questi li posso fare no intanto ne fa 64 che cazzo dite me ne frega più relativamente ecco c'è qua oh così questi li mettiamo via e dopo il barrel è strano che non li abbia però ne farò degli altri tanti saluti strano che non li abbia qua però non li vedo proprio sono cercato lo so vale abbiate pazienza adesso che il tutto è fatto colleghiamo lo voglio bene in vista quindi qua dai facciamo così senza troppi indugi andiamo a metterlo e tanti salustri allora vediamo un po di qua così e questo qua certo che così in mezzo ai coglioni è proprio brutto brutto eh lo so avete ragione avete sempre ragione c'è niente da fare allora facciamo così e mettiamolo così dai di qua è brutto lo stesso però ne ve lo faccio bastare allora il conduit dopo magari troverò un metodo per farlo meno brutto allora questo qui facciamo così e basta quindi qui facciamo un bel extract e qui un bel insert dopo dopo lo sistema perché tanto non va bene perché devo fare col crafter devo metterlo a posto quindi adesso ci mettiamo all'infinity oppla e adesso abbiamo tutte quelle che vogliamo quindi noi quando le andiamo a trasformare faremo queste che a sua volta faremo queste e dopo ho i dragon egg però mi servono le scaglie come faccio le scaglie di drago? eh scal come le ottengo le scaglie soltanto ammazzando le scaglie quindi mi tocca andare a riammazzare e vabbè pazienza lo farò perché se no non posso fare i pezzi sotto madonna quanto li sta facendo siamo belli potenti eh ragazzi insomma nel senso eh? ok io niente vado a fare un altro un altro po' di scaglie insomma di scaglie di di uova e nel prossimo episodio vediamo un po' come ampliare il tutto quindi ragazzi come al solito vi invito a lasciare un like e commento se mi piace alla serie e fammi sapere cosa ne pensate e poi adesso vediamo un saluto da Siva ciao ciao